Si è in procinto di costruire una nuova squadra che possa lavorare per il bene della città? Sono giornate e pomeriggi di interlocuzioni, riunioni, dialoghi tra i diversi componenti e le forze politiche, tra diversi consiglieri comunali, perché una cosa è certa, il sindaco Giovanni Limoli vuole governare con una maggioranza che gli possa dare la garanzia di poter decidere per il bene della città. Si attendono dunque i nomi ai volti che formeranno una nuova maggioranza a Florilia. Intanto le ultime dimissioni sono state quelle di Marco Carianni, il giovane consigliere comunale, il primo fra le letti al civico consesso. Spiega le motivazioni che lo hanno portato ad abbandonare questa maggioranza e ancor più la continua volontà di impegnarsi per il bene della città, lui che è stato recentemente nominato componente della scuola di formazione politica a livello regionale. La voglia di fare politica con la P maiuscola, e devo dire che ho avuto il piacere di conoscere dei giovani amministratori, soprattutto dei palermitani, delle madonie, presidenti del Consiglio, sindaci, che mi hanno in un certo senso indotto a capire quanto sia oggi realmente importante fare politica, oltre che ovviamente ci sono delle situazioni abbastanza precarie e fluttuanti in politica, come sappiamo che però dobbiamo affrontare e penso che un modo per poterlo affrontare sia appunto il confronto, il confronto con realtà diverse, siciliane, nazionali, io ho partecipato anche ad altri corsi di formazione politica e che mi hanno aperto nuove prospettive. Andiamo sulla attività politica svolta a Floridia. Sette mesi e poi le dimissioni. Sono stato fortunato, nel senso che ho avuto il contributo da buona parte degli esercenti del centro storico, avevamo eredito una situazione finanziaria abbastanza precaria, e devo dire che la collaborazione con gli esercenti della zona mi ha messo nelle condizioni di organizzare qualcosa che fosse una parvenza di estate floridiana. Il contributo loro è stato estremamente importante. Poi nell'attività assessoriale ci sono state tutta una serie di scelte politiche che io ho fatto, che poi hanno determinato le mie dimissioni. Mi sono dimesso in aula perché le somme relative agli emolumenti, che come lei ben ricorda avevamo rifiutato, sottoscrivendo un manifesto, avevo chiesto, avevo fatto una scelta politica, chiedendo che venissero vincolate, anziché darli per il sussidio, venissero utilizzate per poter espletare quei cantieri di cui in campagna elettorale sia noi che il sindaco avevamo parlato. A questo non è stato dato seguito, pertanto mi sono astenuto dal votare il bilancio, in quanto all'interno del bilancio stesso non era determinato il vincolo. E adesso la situazione politica sta chiedendo come la realizzazione di un'amministrazione anche tecnica, di supporto per questo sindaco. Lei ci sarà? Ho deciso di essere spettatore in questa partita. Non ritengo che ci possano essere le condizioni per condividere un'operazione sia amministrativa che politica con persone che, come ho già detto, ribadisco in aula, hanno prima chiesto le dimissioni del sindaco, ora si accingono ad entrare in maggioranza. Per dare un segnale di coerenza, la stessa coerenza di cui noi dobbiamo, secondo me, che deve caratterizzare il nostro impegno politico, ritengo sia doveroso fare un passo indietro, stare a guardare e dare il nostro contributo. Il Consiglio Comunale oggi mi consente, mentre quando si fa parte di una squadra spesso non è possibile, il Consiglio Comunale oggi mi consente di continuare a guardare negli occhi i miei elettori, di dire le cose come stanno, di fare chiarezza sulla mia posizione, su quello che realmente stiamo facendo e su determinate cose che al momento non possono essere fatte. Quando si fa parte di una squadra spesso questo non è possibile. Floridia di che cosa ha bisogno? Floridia ha bisogno di politica, di politica, ha bisogno di amministratori validi, ha bisogno di persone che conoscano i problemi della città appunto e che anziché litigare si mettano insieme, si incontrino per individuare le soluzioni. Perché come ho sempre detto, i problemi li conosciamo tutti. Oggi la città ha bisogno, invoca soluzioni. Grazie. Grazie.